Eccomi con una nuova ricetta! Allora, oggi partiamo dal lievito di birra. Ho preso mezzo panetto di lievito di birra, fresco, e l'ho sbriciolato dentro un contenitore, ok? Poi ho preso 150 ml di latte, latte tiepido, e ho fatto sciogliere un pochino il lievito, ok? Poi ho preso un ovetto, sempre girando con una forchetta, gliel'ho inserito, poi ho preso due cucchiai di dolcificante, se voi mettete lo zucchero dovete sempre triplicare la dose, ok? Poi ho preso 350 g di farina e ho iniziato a inserirla, piano, piano, sempre con la forchetta, finché ci riusciamo, e poi iniziamo a impastare con le mani. Tutto questo per non sporcarsi le manine, ok? Facciamo un bel pastrocchio, ci sporchiamo tutte le dita. Poi ho preso 100 g di yogurt bianco, semplice, così evitiamo di mettere burro e olio, ho messo 100 g di yogurt, ho continuato a girare, vedete che la consistenza già è cambiata, ecco, e quindi sono andata a impastare con le mani, ok? Ho impastato, vedete, finché non appiccica più, dopodiché l'ho lasciata riposare perlomeno un paio d'ore, poi l'ho ripresa, vedete come sto facendo, a richiudere di nuovo, gli faccio fare doppia lievitazione come se fosse la pizza, ok? Quindi, senza maltrattarla troppo, sempre a chiudere con le ditine, e l'ho lasciata riposare un'altra oretta, ok? Così, ok, 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 bene, nel frattempo ho preparato la mia crema, che andrò a inserire all'interno di questo dolce, allora ho preso i ceci, dice, ma che stai facendo? Eh sì, poi ho preso il cacao amaro, che sono circa due cucchiai di cacao amaro, ho iniziato a frullare, e dopodiché ho aggiunto un cucchiaino, diciamo, di dolcificante, e ho messo dentro anche due cucchiai di yogurt, guardate che bella crema, ma dovete sentire il sapore però, eh no, eh no, ha il suo perché, Ha il suo, come dico sempre io, ha il suo perché, è un'ideona, non un'idea, è un'ideona, diciamo che è la Nutella fake Poi ho preso 50 grammi di nocciole, l'ho tritate a coltello, questo farà sempre parte dell'interno, eh, della nostra torta che ora vedrete, guardate quanto è diventata bella, ha lievitato per bene Oh là, non distruggiamo tutti gli alveoli L'ho spianata L'ho spianata il più possibile E dopodiché ho iniziato a mettere la mia crema Quindi la crema di ceci, che tutto sembra, tranne che ceci, ve lo assicuro quando andrete ad assaggiarla, e le nocciole Così noi ci creiamo la nostra crema di nocciole, fatta in casa Eh? Ok, iniziamo ad arrotolare Quindi più lo spianiamo è meglio è Tu fuori, non lo so neanche io che forma Ho cercato di intrappolarlo dentro la mia forma in silicone Ecco E l'ho richiusa leggermente in modo da non distruggerla Ehm, praticamente Ah, accendete il forno, eh, vi raccomando, a 180 gradi Ok? Però nel frattempo ci mettiamo sopra un bel coperchio E la lasciamo riposare almeno una mezz'oretta Dopodiché Eh sì, la lievitazione c'è e bisogna avere pazienza Dopodiché l'ho spennellato con il rosso dell'uovo Ok? Messo in forno, 180 gradi Guardate che cosa viene fuori Una torta meravigliosa Buona, buona, buona Guardate che bella Siccome l'avevo messa nel promo E c'è stata, non mi ricordo il nome Che mi ha detto Dove la trovo questa ricetta? Eccola L'interno ognuno può fare come vuole Io ho voluto fare questa crema di Di ceci Però dentro si può mettere marmellata Si può mettere appunto la nutella Mandorle Quello che volete Questa è la mia versione che vi ho voluto proporre oggi Vi raccomando, seguitemi anche su IG, TikTok, Facebook Ci sono dappertutto Assaggiatela Fatela quindi E fatemi sapere come l'avete trovata Per noi è stata una rivelazione Questa crema Fatta in casa Questo è quanto per oggi Io, se vi fa piacere Sono sempre qui Vi aspetto Alla prossima ricetta E come sempre Ciao, ciao!